Ciao! Diapologia del nazismo, diapologia del comunismo, diapologia del terrorismo, diapologia di ogni forma di mafia e associazione a delinquere, contro la famiglia, contro i diritti dei lavoratori, contro la cultura d'impresa, contro l'Unione Europea o a favore di un uso irresponsabile dell'AIA. Valutate le nostre proposte e per qualsiasi domanda non esitate a contattarci. Grazie e a presto!